il treno regionale 22 130 di trenitalia proveniente da roma ostiense e diretto a bracciano delle ore 5 e 25 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 22 133 di trenitalia proveniente da viterbo porta fiorentina e diretto a roma ostiense delle ore 6 e 09 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 21 9 2 3 di trenitalia proveniente da cesano di roma e diretto a roma ostiense delle ore 6 e 32 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 21 9 2 2 di trenitalia proveniente da roma ostiense e diretto a cesano di roma delle ore 6 e 32 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni